Io ho mandato una lettera al Ministro della Pubblica Istruzione, al Presidente del Consiglio, per chiedere che si evitino i trasferimenti fuori regione del personale scolastico di sostegno e non. Non solo più soltanto per una ragione sociale, ma per una ragione sanitaria, perché se incentiviamo la mobilità fra le regioni anche con questi trasferimenti, noi aggraviamo il problema del contagio. Mi pare una motivazione forte che io ripropongo al Ministro della Pubblica Istruzione. Sperando che vi siano decisioni conseguenti. Cercheremo ovviamente di seguire con particolare attenzione quello che succede nelle scuole dal punto di vista sanitario, che è la competenza che noi abbiamo. Terremo gli occhi aperti ovviamente perché è un'area sociale delicatissima. Grazie. Grazie.